Ormai è ufficiale, i consiglieri comunali Emanuela Iorio, Americo Di Benedetto e Antonio Nardantonio lasciano il gruppo comunale del PD e approdano al passo possibile il gruppo rinnovato, così lo hanno chiamato. Tant'è che domani, venerdì 6 luglio, alle 10 nella sala Cesare Rivera di Palazzo Fibioni, i consiglieri comunali in questione, accompagnati da Paolo Romano e Deglia Serpetti, che già fanno parte del passo possibile, terranno una conferenza stampa. Escono dunque dal gruppo dei democratici per transitare nel passo possibile. Sicuramente l'uscita di tre esponenti di spicco del PD porterà delle conseguenze. La decisione era già nell'area dei giorni, ma soprattutto Americo Di Benedetto non aveva voluto rilasciare delle dichiarazioni. Quali potranno essere a questo punto le conseguenze dirette all'interno del PD? Di Benedetto, infatti, è anche presidente della Commissione Garanzia e Controllo. Sono tutte cose da vedere, ovviamente, è certo che il PD locale continua ad avere problemi. Domani, intanto, la conferenza stampa, nella quale i consiglieri fuoriusciti dal PD spiegheranno le loro ragioni.